Nel giorno in cui si cominciano a levare le mascherine dalle strutture sanitarie, cosa che uno dice ma la notizia è che le tenevano ancora, peraltro però ci sono, e qui lo segnalano in varie unità sanitarie sparse per la penisola, ci sono quelli che ancora raccomandano invece di tenere dispositivi medici respiratori, quindi lo ha fatto anche il ministro, oggi sulla prima pagina della verità Giovanni Fraiese, che conoscete direi piuttosto bene, pubblica un articolo dati alla mano per far vedere che insomma questa raccomandazione non ha alcuna base scientifica, è rimasto questo feticcio della mascherina, così perché in qualche modo bisogna abituarsi o abituare, però è una cosa che non ha, l'obbligo di mascherine negli ospedali, nell'RSA non ha alcun supporto scientifico, ci sono in alcuni reparti dove si può togliere, in altri RSA e simili, bisogna tenerla, non sembra stando ai dati che Fraiese elenca che abbia portato grandi risultati, peraltro l'abbiamo visto insomma anche a livello di sanità, di igiene pubblica, sui grandi numeri alla fine le ondate mascherine ci sono state ugualmente, comunque anche lì. Se ne vedono a Milano ancora di mascherine? Sì, sì, se ne vedono, se ne vedono tantissime, in strada, nei negozi, in treno, ma io guarda, di nuovo, se uno si può mettere la mascherina, sono affari suoi, ma a me che mi frega, uno si mette quello che vuole, si può mettere pure il burca se gli piace, non se lo obbligano ovviamente, dopodiché bisogna saperle tutte, se ci sono dei dati, a me non è che interessa trovare il dato che conferma la mia tesi, la mia tesi si forma a partire dai dati, se domani mi mostrano fior di studi che dicono che questa cosa è necessaria, io cambio opinione, semplicemente, io non sto riportando, non sto dicendo la mia, sto leggendo dei dati commentati peraltro da uno che di mestiere fa il medico, anche se l'hanno trattato come se fosse l'ultima ruota del carro, però questo è insomma il modo, visto che si parla di libertà di stampa, ancora questi vizi, questi vizi purtroppo ci sono, ci sono alla grandissima, tra l'altro dopo tutto quello che abbiamo visto sul Covid, l'isolamento e quant'altro, un'altra cosa che mi ha un po' colpito sulla prima pagina della Repubblica è il pezzo di Vittorio Lingiardi, noto psichiatra, che riporta l'allarme americano, c'è un'epidemia di solitudine, non un virus ma una condizione psichica e sociale, il chirurgo generale degli Stati Uniti, tra l'altro non è nemmeno la prima volta che questo Vivek Marty dice questa cosa, che c'è un'epidemia di solitudine, l'ha detto anche ormai un anno fa, ed è curioso, adesso si scopre che c'è l'epidemia di solitudine, quando invece facevano il lockdown senza ragione, quando richiudevano in casa la gente e la didattica a distanza e lo smart working e questo, e quell'altro allora gli andava tutto benissimo, adesso improvvisamente c'è l'epidemia di solitudine, ma chissà come mai c'è questa epidemia di solitudine, tu ti senti solo Francesco, io no, vengo qui apposta perché tu mi consolida questa epidemia di solitudine, ma la massima autorità sanitaria degli Stati Uniti dice, già colpita metà degli adulti americani, individuare la cura non è semplice, certo che non è semplice perché se c'è un modello fallimentare che isola le persone, questo modello tecnocratico basato sulla distruzione dei popoli e delle comunità, poi ti stupisci che la gente si sente sola ed è depressa, ma guarda un po', sono tutti gli studi fatti nell'ultimo decennio, mostrano un aumento dell'ansia, un aumento della depressione, un aumento appunto della solitudine, cosa insomma su cui sono usciti libri anche in Italia, ne ha scritto uno, Mattia Ferraresi che adesso sta domani sulla solitudine, uno dei mali di questo, uno dei grossi mali di questo secolo, davvero, tutto questo è stato alimentato dal virus e dalla gestione della pandemia, quindi, non lo so, quando cadono dal pero così si accorgono delle cose, un po' fanno ridere, un po' però si ride per non piangere.